L'illuminazione pubblica L'illuminazione pubblica L'illuminazione pubblica Ricerca e sviluppo, progettazione, controllo, produzione, commercializzazione e servizi hanno luogo nell'headquarters di Arezzo. Un edificio fabbrica moderno e attento alla vivibilità di chi vi lavora e vi transita, in perfetta linea con la filosofia di Total Quality System, perseguita dall'azienda. Lo studio progettuale degli apparecchi AIC si svolge all'interno della divisione R&D dell'azienda ed implica il coinvolgimento di un'equipa di esperti tecnici e l'utilizzo di strumenti e apparecchiature dedicate. Nel laboratorio prove AIC certificato UL, sicurezza e performance vengono testate da un personale qualificato e costantemente aggiornato. Qui vengono effettuati tutti i test richiesti dalle norme di prodotto per gli apparecchi di illuminazione, dalla sicurezza elettrica all'affidabilità di materiali e componenti. AIC Illuminazione rappresenta un esempio di eccellenza italiana, una realtà best in class dove anche la produzione industriale è in costante evoluzione. Gli imponenti magazzini automatici attualmente in uso sono strutture completamente robotizzate che hanno contribuito a modernizzare la logistica, ottimizzando i processi di stoccaggio e i tempi di movimentazione delle merci. AIC Pool Division è uno stabilimento dal grande valore architettonico, unicamente dedicato alla produzione di pali per la pubblica illuminazione. I sostegni di arredo e quelli della serie design qui prodotti perfezionano l'offerta AIC attraverso la proposta di sistemi di illuminazione completi di palo e corpo illuminante. AIC è in grado di proporre soluzioni customizzate a supporto dei propri clienti e professionisti del settore lighting. Soluzioni di grande impatto estetico, frutto di una sofisticata ricerca sulle forme volta a valorizzare l'illuminazione outdoor attraverso un design ricercato e contemporaneo. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori.